Carlos Morite, grande ex attaccante argentino che ha giocato tra le altre con River Eboca negli anni 70, attacca Di Bala. Dice che è difficile giocare con Messi. E allora con chi vorrebbe giocare? Di Bala sbaglia a dire così. La federazione argentina intanto, ha detto al canale televisivo di TXports, adesso non sa cosa fare, è un disastro? È una vergogna. Non so se andremo ai mondiali, sono pessimista.